Ciao a tutti e grazie per esservi collegati. Da quando abbiamo fatto il nostro ingresso nel mercato della telefonia, ormai sono passati due anni. Se vi siamo piaciuti fin da subito, secondo me è perché abbiamo sempre detto la verità. E sapete cosa succede quando si scopre la verità? Guardate qui! 100 giga, minuti ed sms limitati a 9,99 euro. Per sempre, per davvero. Iliad, la rivoluzione. Ed eccoci con una nuova offerta, ma con le stesse promesse. Zero costi nascosti, zero brutte sorprese, per sempre e per davvero. E a proposito di verità, l'avete appena visto, la verità fa crescere. E noi l'abbiamo fatto anche nel numero, perché in questi primi due anni più di 6 milioni di persone hanno scelto Iliad. Davvero grazie a tutti voi.